E' importante la devozione a San Michele Arcangelo? Direi che è fondamentale la devozione al principe delle milizie celesti, colui che ha combattuto contro il demonio e la banda di Satana, un terzo delle stelle del cielo come ci insegna il capitolo 12 dell'Apocalisse e lo ha vinto. Quindi è fondamentale avere la devozione a San Michele Arcangelo. E come mai alla fine di ogni Santa Messa Papa Lione XIII aveva introdotto la preghiera a San Michele? Per capire questo bisogna leggere la visione che il grande Papa Lione XIII ha avuto e ve la leggo in breve. Secondo il suo segretario particolare, Monsignor Rinaldo Angeli, Lione XIII quel mattino aveva avuto una visione che l'aveva agghiacciato di orrore. Egli aveva visto innumerevoli demoni, ridenti e trionfanti, riunirsi al di sopra di Roma come un greggio di corvi ed investire la città con la loro presenza maledetta. Il Papa aveva avuto l'intuito che occorreva pregare ardentemente San Michele di respingerli. Non solo, ma nella preghiera che poi ha creato il Papa Lione XIII c'è un punto fondamentale dove dice «Nemici molto furbi hanno messo le loro mani empie su tutto quello che la Chiesa, sposa dell'agnello immolato, ha di più prezioso e l'hanno saturata di amarezza. Là dove si stabilirono la sede del Beato Pietro e il pulpito della verità, per la luce delle nazioni, là hanno posto il trono dell'abominio, della loro empietà, così che colpendo il pastore possono disperdere il greggio. Si dunque è presente San Michele Arcangelo, capo invincibile presso il popolo di Dio, contro gli assalti delle forze spirituali del male e da loro la vittoria». Quindi voi capite l'importanza di questa preghiera che il Papa Lione XIII ha voluto poi creare dopo quella terrificante visione che ha scorso anche le fondamenta di San Pietro, andando avanti la descrizione. Lui una sera ha rimetizzato e l'abbiamo visto che era sbiancato in volto perché ha visto scuotere proprio San Pietro questa orda di demoni e quindi ha affidato la Chiesa, aveva chiesto che alla fine della Messa venisse recitata la consacrazione San Michele Arcangelo. «E come mai adesso non si recita più? Perché è stata tolta?» «E' stata tolta in occasione del Concilio Manaticano II nella riforma, le preci leonine sono state eliminate, proprio così è il termine, per cui chiaramente una commissione del Concilio ha tolto la preghiera voluta da un Papa e anche questo lo dice lunga, è la lunga mano, è la manina del serpente, è la stessa manina che per esempio ha tolto il Salmo 58 perché nessuno mai sentirà durante le messe nella preghiera della lettura, chiaramente della preghiera del Salmo, mai sentirà il Salmo 58 dove c'è spezia, oddio, denti alla bocca, rompi il Signore nel maescele dei leoni. Chi ha sentito? Mai, non si sente più. E la stessa manina, quelle famose manine che anche diciamo al Parlamento in occasione della stesura delle leggi, la chiamano la manina che subentra e aggiunge o toglie a secondo che faccia comodo a certe persone. Quella famosa manina della serie degli Adams che molti di noi avranno visto chiaramente, vi ricordate quella manina che girava, ecco, è quella manina lì che toglie le cose a vantaggio del demonio. E il motivo? Beh, è Satana. Il motivo è Satana. Allora, se Leone XIII ha voluto affidare la Chiesa alla protezione di San Michele Arcangelo, quindi, ripeto, colui che ha combattuto contro il demonio e l'ha vinto, il demonio chiaramente cerca di togliere un suo nemico principale, colui che appunto la difende, e allora lo scopo è proprio questo. Il famoso fumo di Satana di cui ha parlato il Papa Paolo VI questo che è entrato nel Tempio di Dio, sul celebre discorso del 1972, e lo trovate in internet tranquillamente quel che ha detto. Quindi questo fumo di Satana che è penetrato perché lui cerca di appunto neutralizzare le difese del suo nemico, del nemico di Satana, che ovviamente è Dio, è chiaro la Chiesa, la Chiesa è il corpo mistico di Cristo, e di conseguenza il demonio è nemico di Dio, in primis della Chiesa, come istituzione del corpo mistico di Cristo, il nemico poi chiaramente dell'uomo, ovviamente. Quindi lui odia tutto, quindi odia Dio, odia la Chiesa, odia l'uomo, odia l'umanità in senso lato, quindi chiaramente cerca di danno, ne confuso di Dio un po' nulla, ovviamente, però cerca logicamente di danneggiare la Chiesa come istituzione e come il resto. E vorrei proprio leggere alcune, per esempio, Padre Pio diceva Prima di recarvi qui da me, andate a Monte Sant'Angelo e invocate l'aiuto e la protezione dell'Arcangelo Michele, tanto per dire l'importanza. Ecco, vi ricordo il passo scoppiò quindi, dall'Apocalisse, scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevassero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo diavolo e Satana, e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi. E nella grotta a Monte Sant'Angelo, San Michele e Arcangelo, leggiamo che là dove si spalanca la roccia possono, ha detto San Michele e Arcangelo durante una delle sue apparizioni, laddove si spalanca la roccia possono essere perdonati i peccati degli uomini. Quel che sarà qui chiesto nella preghiera sarà esaudito. Va perciò sulla montagna e dedica la grotta al culto cristiano. Quindi addirittura San Michele ha promesso attraverso la sua intercessione che qualsiasi cosa, ovviamente per il bene sia chiaro, verrà chiesta nella grotta sarà esaudita. Chi può vantare questo privilegio? E' importante anche la remissione di tutti i peccati. Fondamentale. Quindi chiaramente proprio nell'entrata con devozione, appena si entra nella grotta, c'è il perdono chiamato angelico, proprio per la particolare intercessione di San Michele e Arcangelo. E poi un'altra cosa importante e siamo nel periodo del coronavirus e leggiamo quando si rappresentò al vescovo Lorenzo, io sono Michele e sto sempre alla presenza di Dio ed ecco che la stessa notte che precedeva il giorno della battaglia apparve in visione al vescovo Lorenzo Maiorano del tempo, San Michele, dice che le preghiere sono state esaudite, promette di essere presente e ammunisci dalla battaglia ai nemici all'ora quarta del giorno perché avevano chiesto di essere difesi e questo assalto nemico, quindi è stato esaudito. E poi era l'anno 1656 e in tutta l'Italia meridionale infieriva una terribile pestilenza, vi ricorda qualcosa? Che periodo siamo adesso? Come le chiamiamo? L'arcivescovo Alfonso Puccinelli non trovato alcun ostacolo umano da contrapporre all'avanzata dell'epidemia, come adesso, si rivolse all'arcangelo Michele con preghiera e digiuni. Il pastore pensò addirittura di forzare la volontà divina lasciando nelle mani della statua di San Michele una supplica scritta a Roma in tutta la città, quando allora credevano, ed ecco sul far dell'alba del 22 settembre, mentre pregava in una stanza del palazzo Vescovile di Monte Sant'Angelo, sentì come un terremoto e poi San Michele gli apparve in uno splendore abbagliante e gli ordinò di benedire i sassi della sua grotta, scolpendo su di essi il segno della croce e le lettere M.A. Michele l'arcangelo. Chiunque avesse devotamente tenuto con sé quelle pietre sarebbe stato immune dalla peste. Il Vescovo fece come gli era stato detto, ben presto non solo la città fu liberata dalla peste, secondo la promessa dell'arcangelo, ma tutti coloro che tali pietre richiedevano dovunque si trovassero. Quindi voi capite l'importanza di San Michele l'arcangelo a questo riguardo. Ecco perché anche le pietre della grotta, molte pietre della grotta sono lisciate perché la gente cerca di portare via i piccoli frammenti di queste pietre. Io vi dirò che quando ero nella grotta avevo cercato appunto di vedere se riuscivo a procurarmi qualche pietra. Era, come tu hai detto, liscia, proprio liscia. Non c'era assolutamente, l'ho fatta passare tutta, l'ho fatta passare tutta per cercare di trovare qualche pietra. Poi ovviamente nel negozio che c'è giù San Michele l'arcangelo, non appoggiato contenitore, ci sono, fanno loro qualche pietra. Non solo. Sono come reliquie. Sono come reliquie. Anzi, in occasione di un viaggio a Medjugorje avevamo conosciuto due ragazze che erano della zona della Puglia e parlando appunto poi ovviamente avevamo parlato di San Michele l'arcangelo e loro dicevano che erano state la grotta di San Michele l'arcangelo. Avevano portato a casa queste pietre che hanno trovato nel negozio, queste pietre, perché avevano un fratello che sospettavano fosse posseduto dal demonio. Senza dire nulla né a lui né agli altri, avevano messo queste pietre dentro, in un luogo della casa, dentro un cassetto. Appena rientrato in casa il fratello ci aveva incontrato, immediatamente era corso là dove c'era questo, chiamiamolo, angolo in un armadio, in un cassetto, l'aveva aperto e ha detto che cos'è questa roba? Dando poi prova conferma i loro sospetti, quindi c'era di mezzo una possessione, tanto per dire l'importanza di queste pietre, per cui chi vuole ovviamente può richiederle a San Michele, alla grotta di San Michele all'interno e ci sono queste pietre che le prendono loro. Ma non solo, ma nella grotta di San Michele c'era un'acqua che sgorgava ed era considerata acqua miracolosa. Poi hanno fatto dei lavori, così mi hanno spiegato, l'acqua non è più scesa, hanno bloccato probabilmente l'origine dove aveva questo riguardo, ma questa acqua era miracolosa e quindi nella descrizione poi lo potete trovare. Quindi è molto importante la devozione a San Michele Arcangelo. Ma gli effetti dell'eliminazione di questa preghiera alla fine della messa si vedono? Ah sì, come si vedono? La povera Chiesa sconquassata chiaramente dagli assalti demoniaci. E allora vi sono delle persone che vorrebbero giustamente ripristinare questa preghiera alla fine della messa. Ovviamente credo che i loro sforzi purtroppo siano inutili, però noi possiamo fare una cosa, possiamo noi, nelle nostre famiglie o personalmente se siamo da soli, o in famiglia la sera dopo le preghiere fare la consegnazione e citare la preghiera a San Michele Arcangelo. Lo facciamo noi, se non lo fanno i preti, se non lo fanno qualche sacerdote, l'ha fatto in occasione proprio delle messe in streaming online diretta, è capitato di vedere un sacerdote che faceva recitare la preghiera a San Michele Arcangelo, quindi queste perle chiaramente ci sono ancora, però se non lo fanno loro visto che non si possono certamente costringere, lo possiamo fare noi. Ciascuno di noi è opportuno che faccia la consegnazione a San Michele Arcangelo, che anche taumaturgo, attraverso l'intercessione di San Michele ci possono chiedere anche le grazie di guarigione. È importantissimo. Il demonio, quando noi invocavamo durante gli esorcismi, invocavamo anche la presenza di San Michele e una volta Lucifero ha detto che è un ruffiano lui, quindi indicando proprio una presenza che noi ovviamente non vedevamo, ma era lì presente, ha detto che è un ruffiano lui proprio, e per forza è un ruffiano perché è stato da parte di Dio, quindi chiaramente lui ha indicato questo. Per cui, cioè invocandolo, lui era presente, era presente lì e quindi è con la sua spada eccetera. E come ripeto, una volta facendo una preghiera nei confronti di una persona che non era posseduta, però aveva una infestazione in quel momento, lei ha detto che durante la preghiera con l'infocazione di San Michele Arcangelo ha visto come un grosso ragno, grosso ragno, come infuocato così e ha visto come una lancia che lo teneva a bada, questo grosso ragno spaventoso eccetera, demoniaco, ovviamente veniva, durante quelle preghiere, che veniva tenuto a bada con la spada, quindi la spada di San Michele Arcangelo. Per cui, se non vengono ripristinate perché nella chiesa di Pachamama avete voglia che vengono ripristinate nella chiesa che pensa alle mucchiate religiose? Sì, fanno bene a domandare che vengono ripristinate, però mi sa che aspetteranno i secoli, però ciascuno di noi ovviamente lo può fare lui. Ecco perché anche noi, sempre durante i nostri gruppi preghiera online, facciamo sempre la preghiera a San Michele Arcangelo, quindi voluta proprio da grande Papa Leone XIII, perché non sarà mai dichiarato santo questo grande Papa, basta leggere le sue encicliche, per ovvie ragioni, essendo un Papa antimassone, figuriamoci se viene dichiarato santo, quindi con lo stimolo dalla legge delle sue encicliche, proprio dove si sente il servo di Dio, si serve il Papa a servizio di Dio. Grazie. Come Davide che canto Yahweh, danzerò ed esulterò davanti al re dei re. Come Miriam che suono i timpani, batterò le mie mani davanti al re dei re. Noi veniamo davanti a te, per adorarti al re. Noi veniamo e ti adoriamo, Gesù sei il re.